Poi mi disse, il tempo è vicino, chi è ingiusto, continui l'ingiustizia. Chi è impuro, continui nell'impurità, chi è giusto, pratichi la giustizia. Chi è santo, si santifichi ancora, ancora. Ti consiglio di comprare da me, dell'oro affinato dal fuoco, delle vesti bianche per vestirti. E non appaia la tua nudità, del collirio per ungere i tuoi occhi. Ecco, io vengo come un lato e non sai a che ora della notte. Beato chi custodisce la sua veste e cammina nell'integrità. E non si veda la sua vergogna, ma chi è santo, si santifichi di più. Beato chi serva la mia parola e custodisce la profezia del libro. Ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa. Io sono l'alpha, l'omega, il primo e l'ultimo beato sarai, se avrai lavato la tua veste. Io sto per venire e con me avrò la tua veste. Colui che attesta queste cose dice vengo presto Amen Vieni Signore Gesù 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 Vieni Signore Gesù